Grande paura ma fortunatamente nessun ferito grave in un incidente verificatosi in via Consani a San Concordio. Nello scontro una delle due auto coinvolte, una Fiat 500, si è ribaltata su un fianco rimanendo incastrata tra l'altra vettura e un palo della luce. Non ci sono state gravi conseguenze grazie al fatto che le auto non procedevano ad alta velocità. Ancora da verificare l'esatta dinamica dell'incidente, sembra però che la 500 guidata da un'anziana del posto stesse entrando in via Consani dalla traversa 2 di via Nottolini, mentre la Nissan Micra, anch'essa guidata da un'anziana, stava percorrendo via Consani in direzione San Concordio. Nello scontro la Micra ha praticamente sollevato e fatto ribaltare la Fiat e le due auto sono finite sullo stesso lato della strada. È scattato subito l'allarme e sul posto sono arrivati il 118 e la polizia municipale di Lucca, che ha condotto i rilievi del sinistro. Le due sfortunate protagoniste dell'incidente sono state portate al San Luca, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.